Roma risplende ed è una bellissima vetrina, anche l'open sostanzialmente dal green si può ammirare guardando bene anche la cupola del Colosseo, quindi io credo uno scenario davvero eccezionale, straordinario e per la nostra città chiaramente un ruolo davvero importante. Risplende ed è una bellissima vetrina, anche l'open sostanzialmente dal green si può ammirare guardando bene anche la cupola del Colosseo, quindi io credo uno scenario davvero eccezionale, straordinario e per la nostra città chiaramente un ruolo davvero importante. Risplende ed è una bellissima vetrina, anche l'open sostanzialmente dal green si può ammirare guardando bene anche la cupola del Colosseo, quindi io credo uno scenario davvero eccezionale, straordinario e per la nostra città chiaramente un ruolo davvero importante. Si può ammirare guardando bene anche la cupola del Colosseo, quindi io credo uno scenario davvero eccezionale.